deve essere nella scritta rossa si è rossa e lampeggia il giallo e il rosso va su 1 2 3 4 rosso si 9 10 si ma che sta andando capa mia face perché c'è rossa, capa è mia ciao 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 ragazzi ciao 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 Grazie. Ciao. Ciao ragazzi. Sì, aspetta, aspetta. Avanti, là dove c'è la gobba. Ma quanto sotto? Sì, stai su qua. Vai, vai. Com'è? Di via azione? Beh, giù pianino perché ti ho detto che dietro la curva c'è un piantone di traverso. Occhio che qua è picchia, eh. Ecco, dietro qua la curva qui, se non l'hanno tolto, ah, non l'hanno abbassato. Adesso è tutto così. C'è un'altra noi. C'è un'altra noi. No, no, è tutto single qua. Vai. Cioè vai, puoi anche andare piano, non occorre andare a mille all'ora. Scusateci, buona passeggiata. Eh, devo andare un po' piano perché oggi c'è gente, eh. No, lo sento un suio e basta. Grazie, scusate. Ciao, grazie mille. Buona giornata. Ciao, grazie mille. Buon passaggio Iitola. Che bello. E' bewandert coperta in Peppello. Si, eh. Bello poi l'ho fa l'ho qui. Eh, adesso vedrai dopo. grazie mille signore buona giornata ciao occhio che devi stare a destra fra un pò di qua vai giù al trinale quello lì è il trinale esatto santo femmina questo questo allora qua fermati adesso qui bello è ah che bello? ah qua ci fa l'appendio esatto bello battetino va vito? si adesso si spegne perchè? ricordo ma sta andando vedi che lampeggia ah il monitor ho capito non vedi? vado qua 6 minuti e 43 sta andando si 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 ho capito va tipo risparmio per la batteria non vedi ma l'hai impostata a te quella? eh perchè hai fatto un po' il boh eh perchè sennò lei è la Napoli ma che giornata? ah stia l'appendio adesso farai tutta settimana e così eh? io ho portato tutti i miei stifoli la batteria mia ossia che mi ha fatto che era spettato forte e focando da indumenti che è che è Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie mille, buona passeggiata Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie mille Ho fatto una bella abbattila dell'acqua Sapa che che è meglio zaino Ehi signora Longori Ho picchiato sotto, se hai girato è ancora giusto No, sembrerebbe a posto Sì Aspetta un attimo Gerry Allora, cosa fome Eh Nasuoti un po' Si Tanto nasuo Questa velocità è fisica mia E mi sono mai abituato E' che tu di solito Se hai più vuote la senti la differenza Eh sì, adesso ho sentito qua Quel discerone Il discerotto che abbiamo fatto Con i sassi che c'erano Eh, perchè sei abituato con una Pressione di gomma Si è Allora 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 Eh qui no Non lo sapevo Non ce la fai Perché E' stretta E' stretta E' stretta Gerry Si va fuori la ruota dietro Ma porco Non lo sapevo E' No Ma per me Non lo sapevo Non lo sapevo Non lo sapevo Non lo sapevo Ma per me E' l'unico punto secondo me Che veniva proprio Adesso però occhio Non prenderti troppi rischi Qui Non proprio qui Non proprio qui Però Ricordati sempre che Picchia giù adesso qua E' Esatto E' Esatto Non lo sapevo E' Non lo sapevo Non lo sapevo E' 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 Con Perchè Lo sapevo C responsabilità Perchè Vuoi Arrivederci! Buona! Ma come l'ho fatto? Perfetto! Ma anche l'altra volta con Davide si adriano a giù, lì le rasianti adriano a giù perché ti invita ad andare giù! Ma che ti invita perché lo vedi è troppo bello! Lì vedi che va su e non ci pensi! Posso dire qualche cavolata? Esso in confronto le due scuole di pensiero di mountain bike! C'è chi è suonato e chi suona! Grande Claude! Senza casco fa niente! Appunto! C'è chi è suonato e chi suona! Senza casco fa niente! Eh adesso viene bello eh! Tutte cose così eh! La scuola è un po' più libero! Le cose sono un'aereo! E' un po' più libero! Eh sì! No, nessuno è suona perchè! E' un manco di tappo! E' un po' più grande, non lo so! E' un po' più grande! 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 vuoi abbassarla? Voi, oi, vai, 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 sai o passagem! Voi, vai, vai, vai! E' stato attento figa, ma tanto troppo non ci dà, e' stato attaccato, dove sta attaccato? E' stato attaccato il zaino, come spaccare la bicicletta! Vedi questo è il 4, noi se andiamo giù questo qua è sempre il 12. Volevo dire una cosa ma riflettori pezzi! E' stato attaccato! Oh no! Oh no! E' stato attaccato! 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 se vedi nel filmato una parte molto tremolante no che stavo cadendo ma è partita il pe adesso io è quello che discutevo col tipo perché qui andiamo giù ci divertiamo ancora un pezzo e andiamo giù sull'altro tornante quello che mi hai fatto vedere l'altra volta però è quell'altro tornante è entrato qua l'altra volta quello sotto per lì esatto quell'altro tornante e andiamo giù e poi proviamo a vedere a visilare bello ne? sì perché mi sembra che tu sia giusto male vai più piano anche per me si vado a piano cado disperate secondo me si vado a piano cado perché perdo il ritmo ecco no ecco piccolino e grosso perché secondo me io vado a piano perdono il ritmo e dopo uno c'è il suo no quando vai troppo piano facile io sto indietro devi stare indietro forte ma lei abbassata la sella abbassala un po' però cosa succede rischi di impuntarti eh se stai indietro col culo devi stare indietro forte forte eh sì che però che è di mia parte vieni qua vai 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 te no dai che ti prendo vai ah rifermati lì fammi prendere me dopo riparti quando sto venendo giù dopo lì ti fermi se no se mi vai via io devo fare il giro ti perdo con la telecamera hai capito ti fermi lì un attimo dopo andiamo giù assieme è sicuro che intellettro fai hoci ci si voi cheennò chemmo che mano è caminho non sono non non Sì, non c'è nessuno. Dio pavolo, si è fatta anche stavolta, ma non pensavo che ci si passasse no? Vai vai, sennò ti dici eh! Prima mi dici che li ho passati su una sola altra banda! No, di qui è un po' dura! Eh, difatti mi dici, mi fermo, non puoi scendere, non sapevo che faceva il giro! No, a fianco vieni giù, sennò fanno il muretto! Ah, tu sei salito di sopra e sei saltato giù! Sennò fanno il muretto, a saperlo! Guarda devi stare indietro forte, sennò c'è il cappotto! No! Da con questo, figa, arrivi giù! In più! Mi faccia fare croc! Ah, anche Carbonius! No, perchè il salto è alto! Ti fa croc tutto l'alto! Non lo sapevo che si poteva passare, ma sono fermato! Aspetta che andiamo a vedere un attimo! Sì, sì, vai! Vedi, adesso noi potremmo andare giù di qui, che è quello che ho fatto l'altro giorno! Sennò, andare a sinistra e andare giù per la scuola agraria! L'agraria, esatto! Ma non mi ricordo più perché l'ho fatto a piedi qualche volta! Qui ci sono i gradoni, sì, lo so! Però stavo pensando! Di qui vai giù per andare alla scuola? Di qui vai giù ancora, sei che non lo so, a scuola vai giù ancora, vai attaccarti al sentiero numero 2! Fai tutto il giro e vai, vieni su, prendete al sentiero 2! Prinale! Sì! Però prima, secondo me, si può andare giù! Cos'è che è questo? No, questo qui ti vai attaccare ancora al decollo! Ah! Con questo qui ti vai attaccare ancora al decollo! Questo allora vai giù alla scuola perché è questo qua che fa il giro intorno che va al 2! Questo è il suo mio! Questo mi attacca il vasù! È il vasù alla scuola lì! C'è il pastore! Ah! Prima, Gerry! Vuoi che vuoi fare il pane? Il panele ti spaccano le gambe! Non ti dite subito! No, no, no! No, no, no! C'è Claudio! Dopodichè che ti hai fatto adesso? Al massimo è il solito della bici! Che ore sono o piuttosto? No, sono 10 e 21! Non c'è il panele là, se ti chiedete là! No! 10 e 21! Ora che arriviamo giù sono le 11 eh! Claudio, vai! Facchelo là! Lo faccio io una volta da solo per andare a vedere dai! Claudio! Scusami, chi è l'anziano che è? Nasi da giù! Ecco, ciao! Ciao Gnari! Ciao, ciao! Eeeeh... Vai, vai che ti cazzo! Amaquandala! Tai Quattro se que Easy Quattro 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 No, 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 no. No Wow Prena Jerry, prena Prena Jerry Buongiorno, tutto bene? Benissimo Che brave che siete Buongiorno 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 frena, 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 se vuoi riposarti frena, le gambe no, questo è impegnativo bello però, ecco qua rimpiango una di ammortizzata, ma la rimpiango davvero, però vedo che facendo lo stesso, mi paga, ma purtroppo, le braccia si fa sentire, non è in fondo? no eh, no! no Claudio, proprio in checa, per il mio sentimento è in merito, proprio in checa dai, l'ultimo tocco si, si, dai mi schietto, ma non mi schietto sta in ora a portare mi schietto mi schietto mi schietto mi schietto ah si è partiglia dietro davanti figa sono in un dio adesso vero davanti si no beh a forcella adesso diamo un'occhiata però quantomeno non mi fa più cosa quelle partiglia qua eh ma dietro perchè si sulle scalle no no ma basta se tu dai due pinzali bello questo sentiero visto anche in cima che tecnico però lì i gradoni viva a farlo viva a farlo poche volte per quello che volevo provare ad andare giù di là perchè i gradoni si ti staccano davvero andavamo giù tanto in tempo non vado a più non vado a più non vado a più non vado a più ahahah ma non vado a più che vai a meno non vado a più non vado a più ahahahha ahahah Venti, un vocaccio, all'ora.